Ciao a tutti, sono Nese e oggi volevo fare una nuova apertura Blindbecks. Queste tre me le ha mandate Ali Crafty, tra le altre tantissime che mi ha mandato, quindi oggi apriremo queste tre. Io ti ringrazio ancora tantissimo Ali e davvero non so che dire, me ne mandate tantissime. Qui dietro vedete due amiibo, di cui ho fatto la recensione, presto la posterò probabilmente. Quindi abbiamo queste tre. Prima di iniziare volevo fare i saluti. Federico Venturelli, Marika Di Grato, Veronica Lattante, Irene Di Leo, Creative Channel e Anna Rita Maiorano. Vi ringrazio tantissimo e vi mando un grosso bacione. Allora, volevo iniziare da questo perché io so già qual è, perché me l'ha detto che me li avrebbe trovati, i miei preferiti. E dopo lo vedrete. Queste sono le coppie che si possono trovare, all'interno ci sono o una fatina o il suo animale. Animaletto, insomma. E questi due sono quelli che si illuminano al buio. Credo entrambi, oppure soltanto lei. Prendiamo le forbici e vediamo. A parte c'era anche l'apertura facilitata, ma vabbè. Allora, abbiamo trovato uno di loro due, che erano i miei preferiti. Perché io le tigre bianche le adoro, sono i miei animali preferiti in assoluto. Quindi abbiamo queste. E qui c'è tutta la checklist arcobaleno. Ne ho già aperta una sul canale, ho trovato una fatina, quindi se volete andate a vedere. E abbiamo trovato la tigre. È troppo carina, guardate quanto è carina. La testa non credo si giri, no. È tutta solida. È troppo dolce. E ha questo, diciamo, sonaglino, non so, collanina. E è veramente adorabile. È troppo carina. Quindi grazie mille, mi hai trovato la tigre bianca. Yeah! Allora, adesso andrei con questi, perché sono curiosa, non li ho mai aperti. Sono di Snoopy. Voi sapete che il mio personaggio preferito di Snoopy è Linus. E anche lei mi piace tantissimo. Anche lei mi piace, però anche Snoopy stesso e Woodstock sono molto carini. Costa 2,99, quindi... E anche queste 2,99. Apriamo subito e vediamo chi c'è all'interno. Ecco qui. Allora dovrebbe... Oddio, no, che carino! Mi hai trovato quello col pipistrello! È il preferito di Lucia Felle. E li ho aperti anche lei sul canale, se volete andare a dare un'occhiata. È troppo carino! Che carino! Snoopy è pipistrello o vampiro, insomma. E c'è anche uno sticker, eccolo qua. Che carino! E lo sticker è sempre uguale al personaggio. Qua c'è la checklist, anzi c'è prima un mini fumetto. Che vabbè, ora non lo leggiamo. E questi sono i personaggi. Ci sono tutti loro. E... Troppo bello, troppo bello! Quindi abbiamo loro. E adesso passiamo ai Palace Pets. Il Regno dei Cuccioli, che è molto carino. E qui c'è lo scotch colorato che aveva aggiunto lei. Costano 3,50. Apriamo subito e vediamo che abbiamo trovato. Uh, che dolce! Quello di Biancaneve. No, è troppo carino. Ovviamente ha la coda, diciamo, morbida, pelosa. E' uno di quelli trasparenti, perché l'avevo detto che io adoro quelli trasparenti glitterati. E' troppo bello, guardate quanto è carino! E' troppo carino! C'è una spazzolina, mini spazzolina, dello stesso colore e trasparente. E qui c'è la checklist. E la nostra è... Questa. Cioè, dov'è la descrizione però? Allora, questa è la checklist. Noi abbiamo lei, si chiama Berry Crystal. E ci sono anche quella versione floccata, ma io preferisco questi qua trasparenti. Ne ho già aperto un altro sul canale, eccola qui. Leggete pure la descrizione se volete. E' troppo carina! Questi sono tutti loro. E ecco qui. Troppo bella! Cioè, sono tutti troppo belli. Sono tutti i miei preferiti, in pratica. Questo è troppo carino. Bello! Ti ringrazio ancora tantissimo per il Blind Bags. Vi ringrazio a voi per aver visto il video. Spero che vi sia piaciuta questa apertura. Ditemi che ne pensate nei commenti. E ditemi che ne pensate di questi... Diciamo anche di queste Little Fairies. Di quelli di Snoopy. E di questi qua. Delle principesse. Io vi ringrazio ancora di aver visto il video. Vi invito a lasciare un like, commentare e iscrivervi al mio canale. Vi metto in descrizione il link al canale di Ali. Perché è bravissima. E ovviamente Ali Crafty. Poi la conoscerete penso tutti. Però vi metto il link. E vi mando un bacione. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao!